Vedo, vedo che... Cantare in senso letterale, perché guardate queste immagini. Al termine della partita c'era voglia di scherzare, di giocare, sentire... Non è proprio pronto per X fatto. Io sono inciso con un CD in questo ultimo periodo. La canzone di domenica allo stadio. Vedo che... This is Retribution, no question. And then look at this from Francesco Totti. Vedo che... Valotelli va via, rimpallo, e arriva questo calcione di Totti a Valotelli. Bruttissimo fallo da parte di Totti. Inconcepibile, guardate cosa fa da dietro. Inconcepibile. Non si riesce a capire, ha perso la testa completamente. Un fallo bruttissimo da dietro. Vedo che... Verone, ale na c'errono na pewno capitan Romy i bohater tego meccu nie zasłużono. Fosca Federacja zdecyduje ile będzie pauzował. Vedo che... Non via, aspetto... La gente che... Che vuole fare quella cosa. Cavalata pure a buon mercato, perché qui c'è soltanto l'ammunizione. Tu dici c'era qualcosa di più. Eh, guardiamo bene. Perché l'azione è insistita. Insistita, no. Poi non è che colpisce il pallone. Una volta colpito il pallone, che viene sradicato dalle mani. Continua a colpirlo. Ecco qui, un bel gancio. Non c'è. Guarda che è già così. Non c'è! ... Grazie a tutti.